Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay, me l'avete chiesto in ta... no, vaffanculo. Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video tutorial, vaffanculo. Adesso andiamo a giocare ad un capolavoro della Taito per il mercato arcade del 1988 che si chiama Superman. Come al solito, prima di iniziare, porca puttana. Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco dell'Atari del 1986 che si chiama Super Sprint. Come al solito, prima di iniziare, porca puttana. Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco per Siga Mega Drive, della Siga appunto, ma vaffanculo. Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco del 1998 per PC, della... va a cagare. Il protagonista del gioco è Dash Rendar, un... non un mercenario, come potremmo... ma va a cagare. Si tratta di uno spin-off, è tratto da un romanzo di Steve Perry e parla di... Ehm, no, cazzo. Allora, dopo aver sconfitto il G88, prima di lasciarsi... lasciarci... lasciarsi... lasciarsi le... Mamma mia, che schifo. Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un gioco del 1990 per... di Siga, va a cagare. Eccoci qui ragazzi, eccoci qui tornati alla seconda puntata di Ghostbusters Special Edition. Ho rifatto la partita e ora ho un po' più vite, insomma, perché... Ho fatto ancora... ho fatto un po' di pratica. Madonna degli occhi. Le note musicali prodotte dalla sua arpa, mentre nell'ultimo livello dovremo raccogliere il suo disperato grido d'aiuto... Ehm... no, non mi piace... è proprio un cazzo sta roba. Per non perdervi tutti i video e le live che faccio quasi ogni... O-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Laffanculo! Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare ad un... Laffanculo! Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Andiamo a giocare ad un gioco del 1982 per il mercato arcade della Nintendo che si chiama Popeye. Come al solito, prima di iniziare, puttana schifosa ammaestrata... Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay e andiamo a giocare ad un gioco del 1981 della Nintendo per il mercato arcade che si chiama Donkey Kong come al solito prima di iniziare vi chiedeva a fanculo poi però alla fine la spuntò la Nintendo tra l'altro una cosa molto simpatica è che Donkey no sto dicendo porca puttana cazzata ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di gameplay oh vaffanculo ringrazio talmente tanto il giudice che appunto gli diede linea linea vaffanculo